Parliamo di rulli oggi. Perché comprare i rulli? Siamo già stati scottati dalla scorsa stagione con il lockdown, ma non solo. Il lavoro che si può fare sui rulli è sicuramente molto interessante, diverso da quello che si può fare su un'uscita in strada, perché le semplici ripetute non sono così facilmente praticabili in strada. Bisogna stare attenti a quello che c'è intorno, alle buche, ai pedoni, al traffico, ai semafori e tutto quanto. In casa, sui rulli, non abbiamo questi impicci. Oltretutto, per fare un buon allenamento è sicuramente importante, molto di aiuto, avere dati come cadenza di pedalata, il battito, la potenza espressa in watt. E questo ci porta sicuramente a distrarci dalla strada, perché anche avendo un rilevatore di potenza sui pedali, insomma, tutti questi dati sul ciclo computer, per guardarli bisogna distrarsi dalla strada. I rulli ci permettono di fare tutto questo. Oltretutto, con tutto il panorama di software che ci sono a disposizione, i vari Zwift, Ruvi, Bicool, chi più ne ha più ne metta, c'è veramente la possibilità di sbizzarrirsi. Ho già avuto modo di provarli, ho l'applicazione che mi piace di più, ma credo che molta gente sia d'accordo con me, è Zwift perché è un po' anche più stile gaming, e insomma, più divertente, non ci si annoia con Zwift. Ma direi che possiamo passare all'unboxing dei rulli, che l'obiettivo di questo video è proprio l'unboxing. Cosa interessante, ossia un momento unboxing, che per ora non si è ancora visto sul canale. L'oggetto di cui parliamo stasera è questo, Rulli Elite DirectXRT, ti sta ad indicare che non c'è il pacco opinioni compreso. Questa scatola sono già aperta per controllare, contiene semplicemente l'adattatore per il perno passante boost 12x148, perché questo oggetto ha tutti gli adattatori fino al 12x142, quindi questo è un accessorio da acquistare a parte. Su questo oggetto monterò una mountain bike, che molti hanno già visto sul canale, che è la mia Rock Rider XC500, rimarrà montata per questo periodo invernale, invernale, non sempre, perché comunque farò anche delle uscite. Quindi andiamo a vedere cosa ci offre. a parte di reddito di istruzioni, power per alimentare i rulli, e rispetto alle versioni precedenti, da quello che ho letto in giro, è molto interessante questa cosa, che i rulli sono già montati, non è necessario montare tutta la parte di staffe, come accorrerebbe a fare un po' fa. E siccome hanno un certo peso, per spacchettarli si gira la confezione in questo modo, questa diffoggia ruota anteriore, che probabilmente sostituirò con uno sterzante. questo è tutto materiale da discarica. come potete vedere non abbiamo un pacco pignoni, perché ho preso questo modello, proprio perché il pacco pignoni io ce l'ho già. Questi sono gli altri adattatori, ci sono un paio di distanziali, per montare cassette di vario tipo, qua sopra si possono montare cassette Shimano e SRAM, in un SRAM XD, perché bisogna cambiare il corpetto, e lo stesso vale per cartagnolo, in quel caso è necessario, c'è anche un perno, le istruzioni, il coupon, credo che questo sia il coupon sia per SWIFT per un mese, che per MyElite, che è MyElite Training, che è l'applicazione di Elite, valido per un anno, bisogna riscattare questo coupon sul sito MyElite, e presto andrò a vedere. Quindi direi che per ora è tutto, ora resta da pedalare, e vedere come funziona questo oggetto, e nei prossimi giorni, ovviamente potrete vedere il video, del montaggio della cassetta, Pignoni e della bicicletta. Quindi state con noi, iscrivetevi, mettete like, come dico sempre, è tutto gratis, non vi costa niente, ma noi va sicuramente piacere. Ci vediamo alla prossima.